Guardi, questa è una struttura che è stata profondamente rinnovata, l'anno scorso ho fatto un sopralluogo che non fu positivo, quindi abbiamo sollecitato fortemente il direttore generale che ha recuperato in fretta il tempo perduto, e quindi come vedete realizzare tutte queste cose è uno sforzo notevole, il risultato è stato ottenuto nonostante i problemi relativi alla pandemia e quindi non posso che ringraziare il direttore generale e tutti coloro che si sono applicati. Questa è una struttura appositamente strutturata per il territorio e realizzata per Vieste, che peraltro è uno dei pochi posti di tutta la Puglia ad avere un presidio anche supportato da elicotteri che consente a tutta quest'area, come mai in precedenza era accaduto, un collegamento con i principali ospedali della Puglia in tempi rapidissimi.